Parla il killer di Budrio che nella primavera 2017 aveva affreddato il barista Davide Fabri e la guardia volontaria Valerio Verri. Igor al secolo Norbert Ferre ha deposto giovedì pomeriggio nel processo che lo vede imputato. Incalzato dalle domande del PM bolognese Marco Forti, Ferre ha risposto tramite una videoconferenza dal carcere di Saragozza in Spagna dove è attualmente detenuto. Nel corso della deposizione l'ex latitante ha ricostruito il percorso della sua fuga che lo ha portato in Spagna. Mi sono fermato dappertutto perché ho conoscenze, ha precisato il criminale serbo, chierendo di essere stato aiutato da non pochi amici nel corso della fuga ma non dalla sua famiglia. Le peripezie dell'uomo hanno avuto inizio alla fine del maggio 2017 quando ha deciso di lasciare la casa di una sua amica della periferia di Bologna dove aveva momentaneamente trovato riparo. Da lì Igor ha fatto rotta ad Alessandria, dal Piemonte alla Francia poi il passo è stato davvero breve. Norbert Ferre poi ha proseguito verso Cuneo per oltrepassare il confine. Utilizzando strade provinciali ha percorso tutta la costa azzurra per valicare così i Pirenei a prodare in Spagna nel sud dell'Aragona. Qui prima di essere catturato si sono consumati i suoi ultimi tre omicidi ai danni di un contadino e di due agenti della Guardia Civil. La prossima udienza del processo è prevista per il 25 marzo con la requisitoria del PM e le ringhe di parte civile e difesa.